...suo lancio lungo e la linea di difesa diventa immediatamente a 5 e lasciano giocare i due difensori laterali, Chiellini e Barzagli. Eccolo Barzagli, in avanti per Eder, controlla il pallone, non lo fa benissimo, va in contrasto con Croce, riesce a recuperare, Sturaro, appoggio verso Florenzi, lancio nello spazio dove si infila Eder, pallone ancora una volta troppo lungo, rimessa dal fondo in favore della Germania. Diciannovesimo.